Ciao, mi chiamo Martina Guarino e sono un'agente immobiliare. Di me posso dirvi che sono sposata e ho due bambine. Ho abbracciato questo lavoro nel 2013, quando ho sposato la mia passione per l'interior design e l'architettura. Per dare il massimo ai miei clienti, pretendo il massimo anche da me stessa. Per questo dedico gran parte del mio tempo alla formazione. Mi piace rompere gli schemi e proporre ad ogni mio cliente un prodotto personalizzato e pensato appositamente per lui. Sono una persona estremamente vincente. Per me il fallimento non è un'opzione, non l'è mai stata e non lo sarà mai.